Cari amici, oggi vorrei ripescare un articolo molto divertente, ma anche molto istruttivo, scritto da Renato Farina su Libero di Domenica. Come tutti sapete, quest'anno ricorre l'anniversario della missione dell'Apollo 11 e è divertente vedere come reagì il Partito Comunista, che nel 61 aveva esaltato l'impresa di Gagarin davanti alla conquista della Luna da parte degli americani. Il protagonista, l'autore di questo articolo, che tra poco vi leggerò in parte, è Giorgio Napolitano. Giorgio Napolitano all'epoca era il responsabile della cultura per il Partito Comunista Italiano, era un incarico importantissimo che Napolitano ha mantenuto molto a lungo. Napolitano nel 56, in occasione della rivolta di Budapest, scrisse che l'Armata Rossa che era entrata in Ungheria invadendola portava in realtà la pace contro dei pericolosi disgregazionisti, del socialismo reale. Nel 61 appunto aveva esaltato l'impresa di Gagarin e nel 1969 invece scrisse questo sulla missione Apollo. Lo scrisse sull'unità. Non è da sottovalutare il successo ottenuto dagli USA e dall'amministrazione Nixon con lo sbarco sulla Luna. Ma è davvero il caso di dire che il prestigio americano risale alle stelle? Domanda retorica. Sicuramente no. Infatti proseguiamo aggressione e massacro nel Vietnam, oppressione e sfruttamento nell'America Latina, politica di rapina e di repressione dell'imperialismo americano nei confronti di tanti popoli. Non è che sia così facile dimenticare le piaghe della stessa orgogliosa società statunitense. E poi si arriva al sodo. E noi abbiamo fiducia nella capacità di larghe masse lavoratrici e popolari del nostro paese di non lasciarsi frastornare dai vecchi e nuovi apologeti del sistema americano e anche di non farsi drogare dall'oppio spaziale, di non farsi deviare dalla necessità di una lotta trasformatrice, rivoluzionaria per la soluzione dei propri problemi e dei problemi di tutta l'umanità sfruttata e oppressa su questa terra. Grande difensore di chi è oppresso nel 1971, due anni dopo, quando Soginizzi verrà consigliato di levarsi dai piedi, più grande scrittore russo all'epoca vivente, Napolitano ancora ha preso la penna per dire quanto sottolineare quanto era stata umana la risposta dell'Unione Sovietica davanti alle provocazioni dell'autore di Arcipelago Gulag. I comunisti fanno sempre ridere, però c'è poco da ridere se pensate che Napolitano, dopo peraltro aver anche boicottato la Biennale del Dissenso, quella in cui Carlo Ripa di Meana invitò gli artisti dissidenti che lavoravano oltre Cortina, ecco che Giorgio Napolitano è stato eletto per ben due volte alla carica di Presidente della Repubblica Italiana.